Allora ecco, siamo con il Presidente. Presidente, tre punti importantissimi in questo momento. Era una settimana un po' tribolata all'esterno, ma all'interno c'era serenità, tranquillità. Da un po' di tempo che non vedevo questa armonia, una settimana incredibile, perché addirittura il primo giorno di allenamento di mister Canonico c'erano 70-80 persone, ad assistere all'allenamento. Tutta la settimana io ho seguito l'allenamento tutti i giorni, cosa che non è possibile.